salve a tutti amici e amiche oggi un video diverso dal solito cioè come sapete cerco di occuparmi principalmente di aviazione militare con qualche deviazione sulle battaglie storiche aeronavali ma questo perché continuate a chiedermelo e non riesco a dire di no però non nascondo che sono anche un appassionato di spazio e anche di fantascienza se vogliamo colgo così l'occasione per salutare con un abbraccio adrian di link for universe che segue sempre con grande attenzione e fra l'altro tre giorni fa ha fatto proprio una diretta sull'evento di cui parleremo oggi infatti alle 16 e 31 dell'8 giugno è decollata la missione galactic 7 per chi non lo conosce questo strano velivolo è composto da un aeroplano madre con la caratteristica particolare della bifusoliera in inglese viene chiamata twin che significa gemello con al centro dell'ala potete vedere lo spazio plano che trasporta i turisti spaziali dopo un volo in atmosfera regolare per velocità e quote pressoché identiche a quelle di un aereo di linea lo spazio plano si separa e accende il proprio motore a razzo per compiere una parabola verso i confini dello spazio e ritorno l'8 giugno scorso è successo proprio questo raggiunti i 13,6 chilometri di quota lo spazio plano si è separato e acceso il suo motore a propellente solido e così ha raggiunto 87,5 chilometri di quota per poi discendere planando fino alla pista di atterraggio a bordo oltre ai due piloti c'erano quattro clienti paganti di cui tre privati e un ricercatore un astronauta turco che si sta preparando per la prossima missione sulla stazione spaziale internazionale e tre turisti spaziali fra cui un italiano residente nel regno unito la virgin galactic dal 2011 sviluppa questa idea con la creazione dello spazio porto america nel nuovo messico e con i primi voli purtroppo non senza inconvenienti dato che ci fu anche un tragico incidente nel 2014 la spaceship 2 chiamata vss enterprise 11 secondi dopo la separazione a causa di un errore umano di input da parte dei piloti superò gli angoli d'attacco tollerati disintegrandosi in aria uno dei due piloti riuscì a lanciarsi col paracadute riportando gravi ferite mentre il pilota collaudatore alsbury non fu altrettanto fortunato dopo una totale rivisitazione del progetto per garantire migliori parametri di sicurezza i voli sono ripresi con regolarità dal 2021 fra i primi passeggeri ci fu proprio il fondatore dell'azienda richard branson ora questo progetto e questo velivolo seppur sperimentale non è paragonabile al sottomarino titan la virgin ha fatto di tutto per certificare ogni cosa e dare garanzie di affidabilità quindi dal 2022 è riconosciuta a livello internazionale come l'unica azienda a lanciare spazioplani per il turismo spaziale mettiamo le cose in chiaro per spazio secondo la convenzione americana si intende un oggetto che vola oltre gli 80 chilometri di quota dal livello del suolo l'idea di branson è di vendere 500 biglietti all'anno al costo unitario di circa 200 mila dollari per un volo in assenza di peso di circa 6 minuti in realtà il biglietto poi non si limita a quello cioè con il costo del biglietto non si paga solo i 6 minuti nel senso c'è tutta una fase preparatore di giorni in cui si frequenta la base si conosce lo staff insomma è una specie di pacchetto vacanze che culmina con il volo in assenza di gravità dei 6 minuti vi sembra caro beh i biglietti sono andati a ruba al momento non ci sono posti disponibili ma perché di spazio plano ce n'è uno e le prenotazioni sono state così tante che i tempi d'attesa sono diventati infiniti in questo senso c'è l'intenzione da parte dell'azienda di allargare la produzione dello spaceship tu in serie magari riducendone i costi e questi voli possano portire anche da aeroporti diversi dall'america in altre parti del mondo come esempio dal giappone e anche l'italia non a caso da tempo si vocifera come papabile l'aeroporto di grottaglie in puglia che non è un caso infatti è un importante aeroporto oltre che essere militare è un aeroporto di logistica per aziende come la leonardo l'airbus l'airbus scusate e la boeing quindi in un certo senso la struttura ha già alcuni processi pronti per la certificazione dei materiali e l'assistenza e c'è speranza di farsi un giretto nello spazio nei prossimi decenni quindi nel frattempo se non volete aspettare richard branson da non confondere con benson buonanima come si dice se ci avete i soldi potete pagare 20 milioni di dollari per un giretto di sei giorni sulla soyuz russa che è l'unica a offrire questo tipo di servizio a pagamento oltre alla virgin galactic ma a causa del conflitto in ucraina mi raccomando fate attenzione a non parlare troppo altrimenti il biglietto diventa di sola andata in ogni caso ve lo dico se avete 20 milioni da spendere siete qui a guardare i miei video qui in basso trovate il pulsante per fare una donazione e sostenere il mio canale in alternativa se come me i soldi non ce li avete potete sempre iscrivervi e lasciare un mi piace che almeno quello è gratis regala un sorriso a me e spero anche a voi e mi aiuta tantissimo comunque l'idea degli aerei bifusoliera non è nuova e neanche degli spazioplani se per questo il vantaggio di avere un aereo bifusoliera è che hanno migliori capacità di carico autonomia queste soluzioni furono adottate anche nella seconda guerra mondiale su aerei da trasporto in più occasioni e anche su caccia per esempio più famosi sono per esempio il p38 ma anche alcune soluzioni sperimentali come il p51 twin e dall'altra parte anche in germania il bf 109 twin l'enshell 111 twin per il traino di alianti e tanti altri esperimenti per quanto riguarda invece lo spazio plano è un discorso lungo il primo in assoluto fu l'x 15 il cui principio di volo non era diverso da quello della virgin galactic viaggiava attaccato sotto l'ala di un b52 per poi sganciarsi e accendere il suo razzo nel suo test raggiunse velocità ipersoniche di max 7 ed era un velivolo pilotato e fu anche un banco di prova per la sperimentazione dei cosiddetti rcs che sono i piccoli motori che si vedono sulle astronavi oggi e che servono per direzionarsi e manovrare nello spazio poi nel corso del tempo ne sono arrivati altri di concetti concept di spazioplani come per esempio l'sts space shuttle o il buran sovietico e altri velivoli sperimentali più recenti completamente automatizzati come il pps che possono stare mesi in orbita per condurre esperimenti prima di planare sulla terra quindi detto onestamente capisco che i razzi convenzionali sono più efficienti però il fascino dello spazio plano è incredibile e il mio più grande sogno da bambino era quello di un aereo che potesse andare e tornare dallo spazio volando anche come un aeroplano però non sono così facile per costruirli insomma perché l'ingegneria spaziale e succube della tirannia dei razzi cosa significa che tutto quello che pesa è superfluo e più peso metti più rovinerà inesorabilmente le prestazioni di volo quindi ali finestrini superfici di controllo aerodinamiche nello spazio non servono a niente e pesano allo stesso modo un velivolo che magari si comporta bene nello spazio probabilmente sarà pessimo in atmosfera insomma è complicato però ecco chissà che in futuro queste tecnologie non si diffonderanno sempre di più con lo sviluppo di nuovi materiali sempre più leggeri e soprattutto motori mentre finisco di scrivere questo articolo mi sono divertito a ricostruire a modo mio il modello della virgin galactic in kerbal space program che per chi non lo conosce è il giochino di simulazione spaziale definitivo almeno se escludiamo orbiter per chi se lo ricorda il sistema in cui sto volando è in scala perciò i parametri che vedete a schermo in proporzione sono abbastanza corretti e questo è come sempre fatemi sapere nei commenti lasciatemi un mi piace mi raccomando un abbraccio alla prossima mi raccomando un abbraccio alla prossima